Giustamente ci sta via perché non ha massimo una famiglia i pazzi, cioè insomma alla fine lei si è abituata alle mie pazzie e infatti colgo l'occasione per dire a mia mamma e a tutte le persone, grazie per tutto Monteforte e mi riferisco alla trasmissione, grazie per il sostegno che mi avete dato, non l'ho mai fatto, colgo l'occasione, è stato bellissimo l'affetto che mi avete dimostrato tutti nel periodo in cui ho fatto la trasmissione. E' uguale vale per mia mamma che è abituata alle mie pazzie e purtroppo ci ha perso proprio le speranze. Eccovi allora, sono tre cristiani, tre personaggi, che cosa fanno questi signori? Cantano? Sì sì, ci cantano una canzone di Mario Merola. Oh, ok, io lascio subito perché sicuramente sarà bellissimo, più della mia voce. Allora, ti conosciamo? È una sceneggiata o zappatore, la conoscete sì? Preparatevi a cose pazze. Vieni, ti posso fare qualche domanda nel frattempo che vi preparate? Come ti chiami? Antonio. Non ti conosce nessuno se dici così, come ti chiami? Maradona e me di Pelè. Ah, si Maradona. Senti, vabbè, ma tu perché hai preso le mamme, non tua moglie? Dove sta tua moglie? Vogliare, ma sta in dolce. Ma è un uccello, sta stanca. A dove è andata? A giudare, a giudare un uccello. Ah, io non lo capisco. Vabbè, scherzo. Allora, ci siamo? Ok. Ci siamo? Eh ragazzi, però veloce, dai, che ci stanno aspettando tutti, siamo curiosi di vedere questa performance. Ci siamo? Ok, perfetto, ci siamo, Mollezino. A voi, Maradona e compagni. Felicissima sera. A tutti questi signori, tu guarda. E anche se tu mi dico, a tutti i re. Uomini sicco, e fermi le vittà. Che sei la festa in palle. Tutti che fai a chi c'ha, se sei signori. E da giocci da coppù, c'era a palle. Senza cercare per me, sa palle. Chi sono? Chi sono? Come una porta. Faccio la punta a porta. E sopra, sono qua. Musica, musica. Fatevi molto dolore.